Welcome to the Startup Grind. Mi sento tanto Maria De Filippi, però ha accettato l'invito, quindi è qui con noi e iniziamo con una domanda un po' startuppara. Partiamo dicendo qual è il tuo pitch, il pitch di te stesso, quindi di Enrico, in un minuto. Proviamo a vedere cosa ci riesci a dire in un minuto di te stesso. Sono Enrico Gasperini, ero uno startupper, quindi faccio parte della generazione dopo. Ero uno startupper negli anni 90, innamorato dell'idea di fare del nostro paese un paese importante nel digitale. Feci la mia società all'inizio degli anni 90, che si chiamava Inferenzia. Mi andò bene, la quotammo sul nuovo mercato in borsa in Italia nel 2000, il primo agosto del 2000. Fummo gli ultimi a essere quotati in quel giro, diventò un'azienda da 800 persone. sono uscito, ho fatto il mio exit, quindi ho ceduto la mia azienda a metà degli anni 2000 e da allora ho fondato la Digital Magics. Digital Magics è uno dei più importanti venture incubator del paese, ovvero un'organizzazione che fra servizi e finanziamenti si propone il fatto di costruire una nuova generazione di start-up e di compagnie digitali in Italia. Perfetto. Minuto? Avevi ancora cinque secondi, però è andata bene. Grazie per la risposta e passiamo a Digital Magics. Com'è nata, perché, quando, gli altri founder, il tuo rapporto con gli altri founder, com'è stato? Raccontaci un po'. Diciamo che nasce, cominciamo a fare questo lavoro, grosso modo nel 2006, dopo i primi due anni, ci abbiamo messo due anni a decidere esattamente che cosa volevamo fare, e quindi diciamo che la data ufficiale delle prime incubate è nel 2008 e nasce da una parte da una passione, quindi aver fatto comunque una società grande e in qualche modo aver realizzato un proprio sogno e aver visto così tante persone nel nostro settore, in Italia, così tanti digitali, tante persone che credevano e hanno fondato un po' il digitale nel nostro paese, da lì è nata l'idea di aiutare gli altri, quindi di non limitarsi a ricostruire un altro business nostro, ma quello di aiutare altri imprenditori, mettendo a disposizione la nostra esperienza in questa attività di accelerazione, di incubazione. Non vorrei essere frainteso, sono convinto, spero, anche per i nostri azionisti, visto che un anno fa ci siamo ricuotati in borsa, che anche questo sia un business, quindi non sia soltanto un'attività di natura filantropica, anche se ogni tanto sembra così. È un business perché comunque il nostro paese, secondo me, può dare tanto, quindi ha talenti, idee, un mercato grande che sta crescendo sul digitale e quindi ha gli elementi, come dire, del brodo primordiale per essere una culla di imprese digitali molto più di quanto lo è stato fino ad oggi. Quindi ritengo che nel medio e lungo termine sia uno straordinario business. Voi conoscete la rete, sapete la disruption, la rottanazione di interi settori che provoca la rete, ecco, quando la rete arriva e fa disruption di un intero settore, oltre a sbriciolare molto spesso l'incambient, quelli che c'erano prima, crea delle opportunità straordinarie per quelli nuovi. Negli Stati Uniti una percentuale considerevole del PIL del paese, quasi il 40% è fatta da aziende che hanno 20 anni, non che ne hanno 50, quindi aziende giovani e il 20% è fatto da aziende che sono finanziate con il venture capital e quindi nel nostro settore. Quella cosa lì sta arrivando in tutti i paesi del mondo e quindi anche in Italia, quindi è presumibile che in futuro i pezzi nuovi nella catena del valore, i pezzi di business nuovi, di servizi nuovi, di nuove attività, vengano fatti da aziende nuove. Quindi fare aziende nuove, fondare nuovi brand, nuove compagnie, eccetera, farne tante, farle belle, aiutarle, eccetera, anche nel nostro mercato, così come sta avvenendo nel mondo, è un business importante. Per questo abbiamo fatto la società insieme ad alcuni dei partner che erano già miei soci in quella precedente, insieme ad altri compagni di avventura nuovi, abbiamo insistito, lavorato tanti anni in questo progetto, e alla fine siamo riusciti a quotarlo di nuovo in Borsa Milano un anno fa. Quando parliamo di start-up cosa credi? Sia un nuovo comparto di economia o entri dentro la matrice su tutti gli altri settori? Molti parlano di bolla. Come pensi sotto questo punto di vista qui? Ma era una bolla quando ci siamo quotati noi l'altra volta nel 2000, nel senso che facevano i conti sui numeri che invece oggi ci sono, i numeri oggettivi di utilizzo fatturato e fondamentali delle imprese. Quindi non penso sia una bolla. Ma non lo è per ovvie ragioni. Io penso che ciascuno di noi nella propria vita ormai faccia molte cose di ogni tipo, dal lavoro al tempo libero, eccetera, e le faccia attraverso un intermediario elettronico, un tool digitale. Quindi facendo semplicemente i conti nello spazio che hanno questi nuovi servizi nella nostra vita per fare ogni cosa, si fa in fretta a capire come sia una rivoluzione industriale. Io spesso dico, molti spesso dicono, che si tratta oggettivamente della terza rivoluzione industriale dopo quella della macchina al vapore e quella dell'elettricità. Quindi siamo nel pieno di una rivoluzione industriale che sta cambiando oggettivamente tutti i settori economici, tutti i settori economici, che non saranno più come prima. L'unica scommessa, se volete, che fa la parte più conservativa delle nostre società è capire quanto un settore può resistere, prima che arrivi lo tsunami, prima che arrivi la disruption. Quindi una rivoluzione positiva per i cittadini, per tutti i cittadini del mondo, è in arrivo in tutti i settori. È pervasiva, non è una bolla. La vera scommessa che dobbiamo fare tutti è capire se il nostro paese, se i nostri giovani, i nostri ragazzi, in generale la nostra economia, avrà un futuro più o meno buono, da protagonista, oppure si limiterà a osservare questo passaggio. Grazie. Si parla tanto normalmente di incubazione, accelerazione, essere un co-working, lavorare da casa, a lavorare dentro di altre imprese. Ci spieghi un po' il tuo punto di vista sotto questo aspetto? Ha senso secondo te essere incubati, accelerati, o meglio farsi la start-up un pochettino da sé? Solo di parte. Vai, vai, vediamo. Solo di parte. Allora, io penso che il ruolo di un angelo, un acceleratore, un incubatore, o comunque dei pezzi di sistema che ti possono aiutare, è tanto più importante quanto è più debole l'ecosistema in cui ci si trova. Lo sapete, l'Italia ha un ecosistema che sta nascendo adesso, quindi è molto più debole, molto ancora arretrato, poco liquido, poco finanziato, rispetto ad altri paesi. Quindi, in Italia, un acceleratore, un incubatore che ti dia una mano molto forte, serve più che nella Silicon Valley. A Berlino a metà, quindi, diciamo che sono funzioni supportive che sono importanti tanto più quanto l'intero ecosistema non è sviluppato. Leggevo i dati ieri degli investimenti di questo trimestre nella sola Germania, sono 1,2 miliardi di euro investiti in start-up da venture capitalists in un trimestre. Avete visto i numeri in Italia, in quest'area qui, l'area R-Stage, sono 100 milioni in un anno. Quindi, sono 25 al trimestre contro 1200. Ora, è chiaro che, oppure vi do un altro numero che vi dà l'idea della distanza, non da San Francisco, da Berlino, quindi, stiamo parlando di una cosa che comunque è a metà strada e il nostro incubatore è il più grandicello come dimensioni, come investimenti che c'è in Italia, ha una market capitalization, c'è un valore in borsa di 20 milioni, il nostro concorrente, chiamiamolo così, si può chiamare berlinese Rocket, vale 5 miliardi in borsa. Questo dà un'altra idea della distanza insieme a quegli investimenti che oggi ci separa. Poi, il bicchiere come sempre può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, io tendo a vederlo sempre più pieno che vuoto, vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare, tanto spazio nel nostro paese per colmare questa distanza, ma se guardiamo le cifre assolute viene da piangere. Detto questo, quindi per rispondere alla tua domanda, gli acceleratori e comunque tutto quello che c'è in Italia, i fondi, anche se sono pochi, lo Stato o anche il pubblico o spazi di co-working come quello in cui siamo ospitati sono importantissimi perché quello che c'è va usato come il fondo. Qual è, hai citato l'università o hai citato anche l'educazione, hai citato anche il ruolo dello Stato, qual è il ruolo di, sia il ruolo dello Stato come governo, sia il ruolo dell'università come punto dove si può educare il cittadino o la persona che effettivamente potrà fare impresa, quale è il ruolo che credi che nel 2015 debba avere sia l'università sia quello del governo? Ma in tutti i paesi del mondo la parte dell'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e tutto ciò che è vicino al capitale umano sono uno degli aspetti più strategici, delicati e coccolati dell'economia di una nazione perché da lì parte tutto, non può partire lo sviluppo se non si investe su quella parte lì, il capitale umano, la ricerca, l'innovazione. Questo i paesi occidentali e non solo, anche i paesi dell'est lo sanno molto bene e infatti c'è un intervento dello Stato, della parte pubblica in questo settore anche nelle economie più liberiste, anche negli Stati Uniti. Non dimentichiamoci che pezzi importanti che oggi utilizziamo tutti non sono stati concepiti inizialmente in start-up private, ma vengono comunque da ricerche finanziate dalle agenzie dello Stato americano, anche pezzi che stanno dentro la Apple per dire, si possono fare decine e decine di esempi. Quindi il pubblico è importante anche negli Stati Uniti, per non dire nel resto dell'Europa. in Israele come sapete l'intero settore di innovazione che ha portato Israele ad essere il secondo hub dopo la Silicon Valley nel mondo è stato inizialmente interamente finanziato dallo Stato. Non voglio fare quello perché non mi piace che, come sempre dice, la prima cosa deve intervenire lo Stato perché se no non andiamo da nessuna parte della nostra parte. Però dico che è importante quindi è importante l'istituzione pubblica, è importante l'investimento dello Stato in questi settori alla pari con i privati quindi dovrebbe essere un settore che viene cofinanziato alla pari dal pubblico e dal privato anche perché è un settore in cui occorre molta organizzazione in cui le università devono essere attaccate al resto del sistema gli spazi privati come questo devono essere a loro volta attaccati gli incubatori gli acceleratori i venture capital le imprese via via fino al resto delle istituzioni del paese. se si riesce a fare il sistema e si collabora si costruisce un buon ecosistema di innovazione è bello energetico che fa volare i talenti e consente all'idea di decollare se ognuno di questi pezzi invece non collabora o non c'è le cose sono molto più complicate. Parlando di talenti quando si parla di talenti basta si pensa molto spesso a Google Facebook tutte queste grandi start up o meglio grandi imprese ormai americane che fanno tanto hiring quindi fanno tante acquisizioni solo per prendersi le persone che sono dentro le varie start up e esiste un modo o è possibile formare l'imprenditore o la persona che lavora dentro la start up è diverso o è lo stesso percorso che facciamo che abbiamo fatto tutti normalmente quindi normalmente l'università prepara per la grande impresa e non prepara per la start up sono due percorsi diversi tant'è che un pet uno lo deve fare per strada o sul mercato normalmente l'università fa fatica a darti una preparazione di natura imprenditoriale a meno che non vai a fare un'università di business però l'università più tecnica o tecnologica non ti dà normalmente alcune competenze che poi sono quelle della strada del mercato allora si parla molto di start up ricordiamoci sempre che una start up è un'impresa appunto anzitutto è un'impresa è un'azienda che vive in un contesto legale in un contesto commerciale quindi chi governa un'impresa deve sapere come si fa a governare un'impresa e non soltanto concepire un prodotto quindi deve rapportarsi con delle altre realtà commerciali con dei clienti con dei contratti con una struttura amministrativa con il mondo finanziario e così via ecco quella parte di skill e di competenze ce li hanno chi fa business school non ce li hanno gli altri molto spesso invece ci vogliono team che abbiano entrambe le competenze per poter andare avanti la nostra università non è poi così male come la si dipince noi abbiamo forse siamo i quarti o quinti nel mondo per numero di pubblicazioni anche di assoluto livello quindi abbiamo un ottimo materiale umano una buona capacità dal punto di vista della ricerca di base nella formazione tecnica e in genere nella capacità anche di produrre risultati originali dopodiché non facciamo abbastanza brevetti perché manca poi il ciclo successivo in cui dalla teoria si arriva alla realizzazione di un prodotto di un brevetto di una società nuova e così via ma manca torno a dirlo perché poi è la cosa che manca di più tutto il resto si compensa ma anche il danaro manca l'aspetto io penso che il 90% di quello che si scrive ignori sempre questo tema che è il tema dei temi queste società non si fanno semplicemente con la buona volontà si fanno con dei soldi in tutti gli altri paesi del mondo si investono una quantità enorme di soldi per fare le facebook o quelle anche più piccole questi soldi servono servono per conquistarsi uno spazio nel mondo nel mercato per pagare i primi anni di spese per uscire internazionalizzare globalizzare l'impresa o semplicemente per portarla a brecchire nel nostro paese quello che dobbiamo fare è trovare un modo perché questo business sia conveniente per tutti per gli investitori siano pubblici che privati perché secondo me lo è e far capire e costruire un sistema finanziario che sia in grado di sostenere un ecosistema di innovazione oggi il nostro paese è molto indietro soprattutto per quello non per le altre cose le altre cose non mancano quindi parliamo di parliamo di cose che mancano quindi proviamo a vedere cosa tu dici che le cose non mancano quindi nell'ecosistema italiano a parte i soldi tutto il resto esiste io sono abbastanza convinto se fosse una cosa devi scegliere che da rafforzare oltre ai soldi che quelli in questo momento non ci riusciamo cosa potrebbe quale sarebbe la cosa che vorresti rafforzare dell'ecosistema delle start up italiano e dell'investitore quindi tutto questo ecosistema che abbiamo che si è creato negli ultimi anni beh allora un'azienda ha bisogno anche come dire di alcune vie facilitate soprattutto sono un'azienda che si occupa oggettivamente di innovazione ma io mi occupo di digitale ma questo vale anche per altri segmenti di mercato un'enorme semplificazione di tutto quello che un'azienda per vivere deve fare è stata benvenuta e comunque ha introdotto alcune novità importanti la legge che risale due anni fa che conoscete bene quelle delle start up innovative il decreto sviluppo bis quello è stato un pezzettino ci sono centinaia di altri pezzettini da fare per rendere più semplice quindi calificare il sistema quindi senza grosse spese lo Stato potrebbe completare il governo quindi lo Stato potrebbero diciamo completare quello che hanno iniziato due anni fa con tutta questa serie di semplificazioni semplificazioni sono di natura tecnica legale eccetera ma ci sono anche cose molto importanti forse non tutti sanno che ad esempio le start up innovative hanno un accesso più semplice privilegiato anche al credito bancario con garanzie da parte del medio credito centrale che quest'anno ha arrivato quasi 100 milioni in questo modo sulle start up quello è un aspetto molto importante quindi accesso al credito semplificazione possibilità di usare degli strumenti finanziari equiti in maniera più semplice quindi poter dare le stock option a chi ci lavora e si potrebbe fare molto molto di più ancora questa è una parte che sicuramente andrebbe fatta per agevolare l'accesso ma ce ne metto anche altre la pubblica amministrazione è un grosso cliente di tecnologie per come sono fatte oggi le gare che assegnano a società digitali le commesse lo stato praticamente l'accesso per le piccole è quasi impossibile i listini tecnologici basterebbe anche in questo caro magari da guardare con un occhio privilegiato le nuove aziende che stanno nascendo e creando posti in questo settore anche rispetto a tutta la parte pubblica quindi sicuramente qualsiasi cosa che serva per aumentare l'acquisita del sistema e semplificarlo va bene poi torno a dire che il mercato italiano ha comunque delle opportunità che nel digitale in generale che molto spesso vengono trascurate per quello che si legge in giro nessuno riflette sul fatto che la nostra economia digitale oggi vale appena poco più di due punti del PIL è un conto che si ottiene sommando tutte le attività retail che avvengono attraverso servizi online l'Inghilterra ha dieci punti cioè dieci punti del PIL inglese viaggiano attraverso la rete noi due la nostra popolazione sta rapidamente adeguando man mano che i servizi sono disponibili quindi anche gli italiani a parte il gioco dove siamo dei grandi giocatori online ma anche negli altri settori si adegueranno voi fate semplicemente i conti di che cosa significa 8 punti a tendere nei prossimi 5-10 anni di PIL aggiuntivo di servizi internet in Italia sono decine e decine di miliardi che verranno fatti da aziende molto spesso nuove perché un retailer sulla rete presumibilmente è diverso da un retailer tradizionale un banker sulla rete di un servizio finanziario è diverso da uno tradizionale e via via così negli altri settori lì si apre uno spazio immenso quindi il nostro mercato dal punto di vista della crescita digitale è fra i mercati che stanno producendo più valore anno su anno di tutto il mondo perché gli altri sono già più saturi quindi c'è più crescita digitale in Italia che non nei paesi del nord questo è un po' il contrario di quello che si legge normalmente per cui vai negli Stati Uniti perché c'è un grande mercato il mercato digitale consumer quello da conquistare in questo momento è più qui che altrove siamo una sorta di fly bricks digitali noi la Cina e altri quindi è una presenta delle opportunità straordinarie un altro pezzo in più che assolutamente andrebbe sfruttato torniamo su di te parliamo di parliamo di digital magic labs cerchiamo spiegaci un attimo come funziona e anche qual è il processo di incubazione anche di digital magic in generale dunque noi vediamo ogni anno l'anno scorso ne abbiamo visti quasi un migliaio più o meno quest'anno viveremo oltre duemila sono quindi tanti progetti che ci arrivano dal mercato quindi attraverso il forum sulla rete piuttosto che segnalati da persone dal nostro network o da altri start-upers quindi vediamo migliaia di progetti dopodiché facciamo una selezione ne abbiamo fatti 50 fino ad oggi di questi 50 10 società non ci sono più metà perché sono state vendute l'altra metà perché non ce l'hanno fatta c'è un po' di mortalità anche se cerchiamo di ridurlo ovviamente ne abbiamo 40 in pancia perché abbiamo scelto queste quali sono i criteri di selezione premesso che vorremmo farne molti di più come prima un problema di natura finanziaria comunque c'è un limite perché ne vediamo centinaia che sono potenzialmente delle ottime imprese quindi se ne avessimo la possibilità ne faremo 100 200 all'anno ne facciamo molte meno 10 20 per motivi ovviamente di natura economico finanziaria quali sono quelle che passano allora ci sono tre criteri allora il primo criterio potete immaginare sta nella bontà originalità del progetto ma soprattutto nella determinazione di chi lo conduce da noi si dice ma ci crediamo l'abbiamo visto molte volte che le idee valgono veramente poco rispetto all'esecuzione il 1% ma questo è vero lo vediamo tutti i giorni la determinazione l'ostinazione il credo la passione di chi sta sopra un'impresa e che ne fa un imprenditore al di là di essere uno start-up digitale è la caratteristica principale di tutto il team non solo del capo e quindi quella è la prima caratteristica la seconda caratteristica ovviamente riguarda il mercato nel senso che nonostante siamo uno dei bricks quindi cresciamo molto bene eccetera c'è carenza di capitali quindi non è un posto molto favorevole per costruire delle società che siano capital intensive quindi hanno bisogno poi di round molto importanti per poter uscire nel mondo qualche volta si prende quel rischio però sappiamo che partiamo male quindi un'impresa che ha bisogno comunque di tante decine di milioni si farà fatica a finanziare quindi tendiamo diciamo a scegliere dei modelli meno capital intensive la terza caratteristica la terza caratteristica siamo noi stessi come dicevo prima un acceleratore come noi ha un ruolo importantissimo di incubazione siamo di fatto cofondatori dell'impresa cioè è come se l'impresa la facessimo noi e il nostro team insieme agli imprenditori e questa fratellanza questa cofondazione poi vuol dire saper lavorare insieme usare al massimo anche le nostre capacità non solo quelle degli imprenditori e dei proponenti e noi ovviamente non è che sappiamo fare tutto quindi se riteniamo di poter dare un contributo molto importante in certi settori sappiamo che non riusciamo a darlo in altri e quindi scegliamo e tendiamo a scegliere delle cose che siano affini alla nostra cultura al nostro numero di relazioni e alla nostra capacità di dare un contributo effettivo la somma di queste tre cose poi determina una scelta fatta la scelta poi si prende e si va basta un prototipo o meglio avere un track record secondo me è meglio un prototipo che un track record nel senso che è più importante come dicevo prima la passione per il progetto il tuo grado di entusiasmo il tuo livello di approfondimento che non quante altre cose hai fatto o esperienze nella vita chiaramente conta tutto i nostri start up sono molto spesso giovani a volte sono anche diversamente giovani con un'altrettanta passione o magari più avanti degli anni quindi l'età non è necessariamente una discriminante la passione l'entusiasmo la determinazione questo sempre Digital Magics non è solo a Milano giusto? giusto come funziona il sud? trovi gli stessi problemi che troviamo qui a Milano o è diverso? le persone normalmente effettivamente cercano e hanno progetti diversi o trovi sempre le stesse idee che vengono riproposte? faccio una premessa per spiegarvi perché abbiamo cominciato a esportare il modello come abbiamo cercato di risolvere uno dei problemi di sistema che ha l'Italia abbiamo cooptato coinvolto nel nostro processo tanti altri abbiamo costruito un vero e proprio Digital Magics Angel Network che è fatto di nostri partner che ci danno una mano da tutti i punti di vista nel allevare incubare e accelerare le imprese chi sono questi Angel Network? sono di tre tipi sono business angel quindi persone che hanno esperienza qualche quattrino da investire quindi investitori professionisti che possono entrare nelle imprese insieme a noi in questa prima fase oppure sono dei fondi istituzionali perché comunque alcuni venture capitalist che fanno raccolte come sapete ci sono poche decine quindi sono fondi oppure c'è una terza categoria importantissima che sono industriali figli industriali famiglie industriali che hanno comunque la propria impresa e che cominciano a capire quanto sia conveniente importante stare di fianco un incubatore o di fianco le start up per innovare se stessi quindi aziende piccole medio grandi che fanno open innovation quindi stanno lì cooperano propongono investono aiutano l'impresa con i propri servizi per farla decollare e in questo modo ereditano e hanno una sinergia e ereditano quanto di buono viene concepito nell'impresa o addirittura la comprano quindi a tendere se le cose vanno bene ecco voi sapete che noi abbiamo una ricchezza nel nostro paese straordinaria tant'è che abbiamo ancora una bilancia dei pagamenti fortunatamente molto positiva nel nostro made in Italy quindi abbiamo delle aziende eccezionali in alcuni settori di grande eccellenza queste aziende sono distribuite sui territori quindi non esistono ci sono centri di eccellenza in tutto il paese a seconda di tipologia ecco noi siamo andati a cercare questi circoli di imprenditori li abbiamo coinvolti in questo business cercando di appassionarli e stiamo fondando un investor club un angel network club nostro in 5-6 città italiane questo ci serve a due cose allora un team di start-up potrebbe eventualmente con qualche fatica venire qua perché tutto sommato Milano è l'hub principale che c'è in Italia in questo settore è più difficile far spostare il resto cioè la struttura economica di sostegno che può aiutarti quindi a un certo punto abbiamo di prima venivano tutti qua poi abbiamo deciso invece di andare da loro e allora abbiamo fatto Napoli abbiamo fatto Roma stiamo andando in altri paesi italiani costruendo un club un circolo di investitori di angel network in ognuno di questi paesi una sede e lavorando con gli imprenditori con gli start-up locali affinché si rimanga vicino a chi ti può dare una mano per affrontare questa difficilissima prima fase della vita dell'impresa perfetto allora io e Chiara abbiamo guardato un pochettino come funziona negli altri paesi che sia start-up grind si diverte perché prova o meglio le persone che conducono start-up grind provano a fare qualcosa di standard in tutti i stessi eventi quindi alcune domande che sono più o meno standard che dove la risposta è non lo so una parola due parole quindi molto veloce molto rapida così vediamo come si risponde non esiste una risposta giusta o sbagliata proviamo a utilizzare di questo modello e vediamo come viene io inizio e poi non mi prendo la responsabilità di aver scelto le domande vabbè allora no sì infatti hai ragione è colpa mia se dovessi essere un personaggio storico chi saresti? su chi ti identifichi? ma devi dire ABC no 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 una parola Steve Jobs se dovessimo parlare di prima del 2000 ancora Steve Jobs prima del 2000 qual è la skill che trovi più difficile da incontrare una persona? la skill più difficile da incontrare su una persona secondo me è la curiosità del mondo qual è il miglior complimento che hai ricevuto? il miglior complimento che ho ricevuto? di essere un visionario qual è il miglior complimento che hai dato? il miglior complimento che ho dato? da salto non so qual era il migliore ogni persona ne ha uno diverso che si aspetta cos'è più importante? forza velocità o stomaco quindi pancia? la forza qual è il tuo libro preferito? il mio libro preferito? il mio libro preferito mi cogli impreparato ne ho tanti un paio piccolo principe qual è il tuo film preferito? il mio film preferito mi ha tanti anche in questo caso e e dovunque ti faccio una cosa che c'entra poco come Apocalypse Now Ok. Qual è la tua stagione preferita? La primavera. Qual è l'ultima volta che hai fatto qualcosa di nuovo? Oggi. Se tu dovessi scegliere un animale, che animale saresti? La pantera. Se tu dovessi essere una persona vivente adesso, chi sceglieresti di essere? Me stesso. Che cosa credi che faccia un lavoro, quando parliamo di compiti fatti bene o fatti male, cosa credi che sia l'elemento fondamentale per cui questo lavoro è fatto bene o è fatto male? Qual è l'aspetto fondamentale di un lavoro se è fatto bene? La passione, dunque l'hai fatto. Io sono arrivato, arrivo all'ultimo. Qual è l'oggetto che hai, quindi che possiedi, che non daresti mai o che non venderesti mai? Che posseggo, che ho? Tra i tuoi oggetti che hai, casa, ufficio, qual è l'oggetto che non venderesti mai a nessuno, per nessun prezzo? Oddio, non sono materialista. Lo smartphone, no? L'iPhone, no? E infatti io faccio l'ultima e poi mi chiudo e lasciamo le parole al pubblico. Cosa vuoi fare da grande? Tornare a essere bambino. Perfetto. Io intanto farei un applauso a Enrico. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.